hello beautiful people Sal here with a brand new video ciao a tutti ragazzi e che c'è da dire grazie per i 50 iscritti sono un canale grandissimo sto arrivando per te a f***er comunque a parte i scherzi mi rendo conto che i 50 iscritti non sono tantissimi però sono comunque un enorme passo per me e vi ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a raggiungere 50 iscritti sia quelli a cui ho rotto i coglioni per farli seguire che quelli che mischini da soli hanno trovato il canale se sono iscritti a voi voglio tanto bene vediamo che altro potrei dirvi riguardo allora ci sono tantissime cose da dire intanto partiamo dal presupposto che mi dispiace che non tutti i contenuti vi possano piacere partiamo dal presupposto io faccio i video per chi piace farli a me io non metto in dubbio che l'idea il concetto di youtube è fare un video perché faccio visualizzazioni però io sono io sono pieno d'accordo infatti vorrei tanto mi piace tantissimo che se in qualche maniera un qualche miracolo il mio canale di crescesse diventasse gros grosso sarebbe molto bello mi piace tanto riuscire a fare video per mestiere lo so che non è non è una cosa possibile quindi non ci provo più di tanto però in quanto un canale piccolo e non commerciale non economico in questo caso senza niente partnership anche se potrei averla niente pubblicità niente cose sto facendo i video in modo tale che perciano soprattutto a me fare questi video vorrei fare però voglio fare video che perciano a me ma perciano anche a voi giustamente che youtube è una piattaforma interattiva online multimediale che tutti possono interagire possono vedere possono toccare pigiare commentare di qualcosa in cui entrano in contatto e vorrei che entrasse in contatto col mio e il mio materiale tant'è che io vi chiedo a voi continuamente che video vi è piaciuto commentate mettete il like iscrivetevi scrivetemi questo video fa cagare se lo credete come fa un certo born kiss che è un grande grande script born kiss comunque io apprezzo qualsiasi forma di interazione riguardo il canale sia in persona come quelli più stati bene i miei amici vedo e si parla in presenza che anche ogni tanto se ne è successo a scuola è arrivato uno sai ho visto il tuo canale mi sono iscritto io mi sono accassato tantissimo comunque il mio canale io vi chiedo a voi cosa ne pensate così io posso fare il materiale che piace sia a me che a voi così trovo una via di mezzo perché a me piace fare video io vorrei fare video che piacciono anche a voi infatti salo ogni un altro giorno intanto ve lo chiedo parlare come però mi fate confondere mi confondete tipo ehi ehi fra che video ti è piaciuto il mio canale ultimamente c'è il sn se te ne è piaciuto io chiedo per l'ennesima volta e lui ah salo si sai il video ti lascio io che c'è sta facendo un vlog ah sto facendo un vlog cosa cosa non buona non buona comunque alber allora sto dicendo salo e fra che video ti è piaciuto il mio canale per esempio ma lui ma salo sai com'è il video di clash real è veramente molto bello ma il video di elefanti non mi piace così fare più gameplay di app e meno 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 storielle io ok il giorno dopo vado ad un altro ehi fra a te che video ti è piaciuto invece lui beh allora io salo onestamente devo essere onesto i video di clash real mi fanno cagare perché quelle sono cose che fanno fare vj e gli altri troppo troppo cancro youtube invece il video di elefanti era bellissimo mi piacciono i video in cui tu fai i parli incazzate troppo bello e io grazie fra e in quel caso sono confuso perché a me piace fare entrambi i video ma a voi non piacciono come io sì ma siete neanche voi non lo sapete cosa funziona e io non lo so comunque comunque questi video mi piace tantissimo farveli fare cioè farli per voi perché mi piace fare video intanto è che ho tantissime altre idee che voglio fare e cercherò di di farli realizzare perché se il video se dovessi sincero io se dovessi allora io vorrei fare tutti i video in questi tipi di canali in cui sono scritto però la vera è che sono scritto in troppi canali troppi per esempio io ho i canali di tutorial in cui sono scritto i canali di canali di animazione in cui sono scritto che vorrei anche iniziare a fare l'animazione quando riesco a piratarmi un programma voi questo non avete sentito mi farò farò un po di animazione questa cosa di paint l'ho preso da un altro da un canale mi sono ispirato a un canale che mi piace tantissimo sia credere andrei che fa video solo con paint poi video gameplay ci sono tantissimi però non ovviamente a quelle che mi sono aspettato non sono tipo fa vj sono altri più grandi e magari non lui poi ci sono video come il grandissimo crocs 89 non riuscirò mai a emulare che quello è un grande oppure che ne so un video mi piaceva molto fare anche video in cui prendo in giro altre video di altre persone così indirettamente da storie sto anche promuovendo comunque sì questo il blog ci sono descritti vi ringrazio tutti quanti aiutatemi dicendomi cosa vi piace così io cercherò di venire il tuo incontro e spargete la voce perché perché voi più iscritti perché vorrei farlo crescere il canale se vi piace vedete il video attorno a me in questo momento e se volete iscrivervi cliccato sulla mia faccia perfetto ciao ragazzi big love big sex ciao 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 ciao